ciao a tutti e bentornati in un nuovo video si è appena conclusa la conferenza di apple dell'8 marzo che a proposito è la festa della donna e colgo l'occasione anche per fare gli auguri a tutte le donzelle anche se il 99 per cento del mio pubblico è maschio in ogni caso sono stati presentati annunciati diversi prodotti partiamo dal primo ovvero semplicemente una nuova colorazione per iphone 13 pro e 13 normale il nuovo colore è verde ovviamente è un fatto soggettivo che piaccia o non personalmente lo trovo molto bellino ma mi piace di più la colorazione azzurra il prossimo prodotto è l'iphone economico ovvero l'iphone se anche lui finalmente riceve la 15 bionic quindi un migliore post processing per quanto riguarda le foto una migliore durata della batteria prestazioni migliori eccetera il prezzo rimane invariato e sarà disponibile dal 18 marzo anche il prossimo prodotto non è un nuovo prodotto ma è semplicemente un aggiornamento ovvero per quanto riguarda l'ipad air nuovo processore anche se non è proprio nuovo ovvero l'M1 e in questo caso si tratterà del dispositivo con processore M1 più economico in commercio il prezzo di partenza rimane invariato quindi 599 dollari ed è disponibile in diverse colorazioni guadagna anche il supporto per l'apple pencil 2 e l'usb c che ovviamente permette ricarica più veloce e anche i trasferimenti più veloci sarà disponibile in tagli da 64 come minimo i 256 gigabyte come massimo e anche lui lo troveremo disponibile dal 18 marzo negli store arriviamo al succo partiamo dal cuore del prodotto ovvero M1 Ultra dopo M1 M1 Pro M1 Max adesso abbiamo l'M1 Ultra la prossima versione probabilmente sarà un M1 Super Saiyan in parole povere sono due M1 Max messi insieme e adesso sono sicuro che in tanti staranno dicendo beh non è niente di nuovo l'ha già fatto Intel l'ha già fatto MD l'hanno fatto tutti e sappiamo che ci sono anche dei problemi che derivano dall'unire due cpu prendetela per la buona anche se non è effettivamente una cpu sto cercando di farla semplice anche per chi non è molto tecnico come dicevo un attimo fa unendo due cpu ci sono diverse problematiche il primo sono le latenze maggiori consumi e ovviamente le prestazioni non scalano sempre in maniera doppio perché con l'aumentare delle latenze con una comunicazione non diretta e soprattutto perché magari non vengono gestiti via software allo stesso modo le prestazioni possono variare di molto Apple però anche questa volta ha deciso di farlo a modo suo e per quanto dichiarato hanno fatto una connessione die to die diretta chiamata Ultra Fusion che permette una connessione diretta velocissima fino a 2.5 terabyte di bandwidth che è fino a quattro volte più veloce della attuale migliore connessione tra due cpu e inoltre risulta come un solo chip quindi si può sfruttare la stessa memoria unificata i programmi e le applicazioni sono già sviluppati per più cpu core abbiamo più gpu core abbiamo più memoria abbiamo le prestazioni scalano in maniera diretta nella maggior parte dei casi l'abbiamo visto con m1 m1 pro m1 max ovviamente dipende sempre dal tipo di utilizzo con questa unione possiamo avere fino a 128 gigabyte di memoria unificata questo nuovo soc essendo due m1 max uniti può arrivare a un totale di 20 cpu core e può arrivare fino a 64 gpu core inoltre vi ricordo anche che m1 pro m1 max eccetera hanno degli encoder dedicati sia per l'h265 ma anche per il progress in questo caso unendoli abbiamo 4 encoder per il progress il che rendono possibile a questo nuovo esso sì fino a 18 stream in 8k pro res 422 che non serve praticamente a nessuno ma appunto si chiama mac studio è pensato per i professionisti adesso tanti diranno sì ma l'avete detto anche con il pro sì perché effettivamente è il nuovo prodotto top di gamma di apple l'hanno paragonato anche con il mac pro che è l'ultimo prodotto che manca per l'aggiornamento totale della linea dei prodotti apple per il passaggio apple silicon che avevano promesso di effettuare entro il 2022 quindi posso ipotizzare di vedere un nuovo mac pro penso verso dicembre è disponibile dal 2023 vediamo ora gli ultimi due prodotti annunciati uno dei quali ovviamente ha il nuovo m1 ultra ovvero il mac studio si tratta di un mac mini gigante praticamente la dimensione rimane la stessa ma diventa molto più alto e all'interno abbiamo ovviamente l'm1 ultra ma non sarà l'unica versione infatti potremo vedere anche una versione più economica con l'm1 max il prezzo di partenza lo guardo immediatamente dal sito parte da 3.000 da 2.349 euro con l'm1 max e da 4.649 con l'm1 ultra non la versione più potente in assoluto se vogliamo proprio la versione full con 64 gpu core ci costa 6.259 euro se vogliamo effettuare l'upgrade ai 128 gb di ram 7.179 e infine se vogliamo 8 terabyte di ssd andiamo a 9.249 euro decisamente non economico soprattutto per quanto riguarda l'upgrade dell'ssd infatti partiamo da 6719 con un tera e arriviamo a 9.249 con 8 terabyte questo nuovo mac studio ha nella parte frontale due porte thunderbolt 4 e uno slot sdxc quindi per le schede sd mentre nella parte posteriore troviamo quattro porte thunderbolt 4 due usb di tipo a una porta hdmi e una porta 10 gigabit ethernet insieme a un jack da tre e mezzo finalmente finalmente di base la 10 gigabit ethernet su un prodotto del genere avrei preso a sverle tutti quanti davvero perché se è pensata per i professionisti deve avere la 10 gigabit di base finalmente e ovviamente è da 10 gigabit anche nella versione con l'm1 max quindi di differenza cambia praticamente solo l'soc e altra cosa da tenere in conto è che se volete 128 gb di ram unificata dovete per forza prendere l'm1 ultra il nuovo mac studio è disponibile al preordine immediato io non penso di ordinarne uno cercherò di trovare un modo di provarlo ma non ha troppo senso invece sono molto intenzionato a prendere il prossimo prodotto ovvero il nuovo apple studio display finalmente un monitor non dico ai livelli del pro display xdr che comunque rimane su un'altra fascia di prezzo e un'altra proprio fascia di prodotto ma un monitor più economico economico e molto tra virgolette ma con delle caratteristiche veramente interessanti partiamo dalla risoluzione 5k e in questo caso non è niente di incredibile 5k su un 27 pollici ed è disponibile con due finiture quella classica con il vetro lucido e anche con la nano texture che abbiamo visto presente sul pro display xdr il prezzo di partenza è di 1799 sia con l'attacco vesa che con la base standard che è molto simile a quella dell'iMac se invece vogliamo una versione più simile a quella del pro display xdr il prezzo parte da 2259 in ogni caso più economico dello stand da 1000 euro che veniva proposto con il pro display xdr guardando dal sito non vedo la disponibilità dell'adattatore vesa da acquistare a parte ma si può scegliere solo nel momento di dell'acquisto probabilmente lo prenderò con la base sua anche se sono assolutamente un amante del delle braccia per i monitor questo mi sa che lo prenderò con la sua base le cose interessanti di questo monitor però sono diverse la prima è la connessione tramite thunderbolt come avviene per il pro display xdr poi sono presenti altre tre porte di tipo usb c che possono essere usate per collegare i vari dispositivi e queste arrivano fino a un massimo di 10 gigabit luna ovviamente se utilizziamo il cavo thunderbolt per attaccarlo a un macbook pro possiamo anche ricaricarlo automaticamente fino a 94 watt quindi il macbook pro da 14 si ricarica tranquillamente con il fast charge se invece utilizzate il macbook pro da 16 si ricarica normalmente ma non con il fast charge la seconda cosa interessante e unica praticamente è la presenza di un processore all'interno ovvero la 13 bionic e adesso direte a cosa serve un processore all'interno di un monitor serve per diverse cose per la funzione true tone visto che è integrata direttamente all'interno del monitor ovviamente all'interno avrà anche dei sensori di luminosità per capire la luminosità ambientale un po come succede già per i macbook pro eccetera ha una webcam da 12 megapixel uguale alla stessa fotocamera che è presente negli ipad quindi supporta anche center stage utilissimo per le videochiamate ho avuto modo di utilizzarlo con i miei genitori e secondo me è veramente veramente figo ovviamente all'interno non potevano metterci un microfono stupido già i microfoni all'interno dei macbook pro degli i mac eccetera sono fenomenali per essere dei microfoni integrati a quanto pare hanno aggiunto un triplo microfono per cancellazione del rumore e qualità poi quello magari vedremo di provarlo appena arriverà al monitor e infine anche degli speaker già abbiamo visto che quelli all'interno dell'i mac erano veramente veramente ottimi in questo caso ci sono sei speaker con dei woofer eccetera e per quanto dichiarato è l'audio migliore da qualsiasi monitor che abbiano mai prodotto e spero anche bene sono davvero davvero curioso di provarlo e vedere come si comporterà questo bambino da 55 pollici andrà in pensione farò qui una postazione vediamo vediamo datemi anche voi qualche consiglio in ogni caso questo è stato annunciato sono davvero curioso di vedere questo monitor e eventualmente di provare anche il mac studio in ogni caso vi ricordo di iscrivervi al canale seguirmi nei vari social e ci vediamo al prossimo video grazie mille buona serata ciao vi ricordo che è disponibile blink my pc il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile realizzando configurazioni personalizzate oppure scegliendo tra quelle proposte in base al prezzo desiderato ovviamente non mancano le offerte in tempo reale recensioni articoli e il merchandise trovate il link in descrizione